Sono 25 anni, ero qui io, c'era Leila, Dayanis, c'era la Cardiopinie che adesso non c'è più. Tante persone che hanno sempre creduto in questo Pride e per 25 anni lo hanno portato avanti. A volte in maniera un po' più difficile, altre volte con un governo meno stile, ma noi siamo determinati a portare avanti le nostre lotte, le nostre battaglie. Sempre presenti, saremo sempre presenti finché ci serve, perché noi dobbiamo andare per il giustizio di tutte le persone. A tanto proposito, io vorrei dire a me, ma non so se vorrei essere un'ora di freddo. A tanto proposito, io vorrei dire a me, ma non so se vorrei essere un'ora di freddo. A tanto proposito, io vorrei dire a me, ma non so se vorrei essere un'ora di freddo.